Dunque adesso siamo a Marco, ci abbiamo messo due ore da Lizzanella fino a Marco perché effettivamente sia a Lizzanella che a Lizzana ci sono state le persone che mi hanno indicato una rotatoria e ci sono insomma dei problemi che abbiamo raccolto e anche qui a Marco uno dei problemi che abbiamo raccolto a Marco è che per raccogliere un po' di foglie cadute dagli alberi visto che è autunno, passano prima un spazzino con l'aspiratore e dopo passa un grande camion e praticamente le signore che andavano col passeggino dicevano ma è possibile che per raccogliere cinque foglie abbiamo bisogno di mezzi meccanizzati e tanto rumore insomma, così un piccolo appunto adesso andiamo verso Borghetto